Ellie Schlein perde le elezioni e fa tre errori di comunicazione in 15 secondi. È una sconfitta netta, sono elezioni amministrative ma dimostrano che il vento a favore delle destre è ancora forte. Ringraziamo comunque tutti coloro che si sono spesi, i nostri candidati. Errore numero uno, Ellie Schlein ringrazia i candidati del centro-sinistra e non ringrazia gli elettori che hanno votato il centro-sinistra. Questa è probabilmente la cosa più grave di tutte, che a cascata genera gli altri errori. Non c'è orientamento al pubblico. Errore numero due, Ellie Schlein parla soltanto di tecnicismi che riguardano il partito. L'errore numero tre, la metafora, il vento della destra, ancora con queste sciocchezze delle metafore meteorologiche. Le faceva anche Giorgia Meloni non più di un anno fa, le ripete Ellie Schlein. La comunicazione politica è diversa dalle previsioni del tempo. Quindi come poteva esordire Ellie Schlein? Grazie ai milioni di italiane e italiani che ci hanno dato fiducia, il nostro è un progetto di governo che richiede tempo. Ci impegneremo per fare in modo di arrivare alle prossime elezioni politiche e di convincere la restante parte degli italiani della bontà della nostra proposta. Ragazzi, bisogna mettersi davanti a una scrivania con un foglio di carta, prendersi degli appunti, formulare delle ipotesi su che cosa può funzionare comunicativamente, spuntare le cose che non vanno bene, provare e poi fare la dichiarazione. Ma questo ancora tanti politici probabilmente non lo fanno. Grazie. Grazie. Grazie.